Radio Radicali, siamo con il senatore Andrea Giorgis, capogruppo in prima commissione al Senato per parlare del premierato. Oggi, la seconda giornata di votazioni, vi siete concentrati sia sui poteri del premier che sulle dimissioni del presidente del Consiglio. Allora, come trovate questa parte del meccanismo della riforma? È, diciamo, confusa e di difficile applicazione quasi quanto lo è la parte relativa alla formazione del governo. Perché il testo prevede che in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il presidente del Consiglio debba dimettersi e contemporaneamente si debbano sciogliere le camere. Quindi le camere che approvano una mozione di sfiducia sono camere che certificano anche il proprio scioglimento. Nel caso invece che vi sia una dimissione volontaria da parte del presidente del Consiglio, allora si può dare il caso che il presidente della Repubblica proceda, sempre che il presidente del Consiglio dimissionario sia d'accordo, alla nomina di un secondo presidente del Consiglio, che deve essere però scelto tra parlamentari eletti nelle liste collegate al presidente del Consiglio. Però questa ipotesi non dice nulla riguardo all'eventualità che ci sia un cambio di maggioranza, anzi è perfettamente contemplato. Cioè si può dare il caso che il presidente del Consiglio si dimetta volontariamente, poi ottenga una nuova fiducia, perché il presidente della Repubblica potrà, nel caso in cui il presidente dimissionario sia d'accordo, procedere al nuovo incarico e questo nuovo incarico potrà essere dato anche al presidente del Consiglio che si è dimesso. In questo caso potrebbe capitare, come un fatto, come dire, assunto come appunto possibile, che la maggioranza che sostiene il secondo presidente del Consiglio sia profondamente diversa dalla maggioranza che invece si è formata all'indomani delle elezioni. E questo è ovvio che è una contraddizione rispetto alla narrazione di una presidente del Consiglio che viene eletto immediatamente dai cittadini con una maggioranza e non è possibile che si determinino maggioranze diverse da quelle che sono uscite dalle urne durante l'elezione del presidente del Consiglio, perché questa ipotesi è perfettamente contemplata. Ma soprattutto la formulazione dell'articolo 4 non dice nulla su quale siano le conseguenze della mancata approvazione di una proposta di legge del governo sulla quale il governo ha posto la questione di fiducia. Allora in questo caso non è chiaro se il governo deve comunque dimettersi, non è chiaro se in questo caso le dimissioni comportino anche lo scioglimento del Parlamento oppure determinano la possibilità di un nuovo governo e soprattutto se determinano la possibilità della nascita di un nuovo governo senza quei vincoli di appartenenza alla maggioranza e senza quei vincoli che sono previsti nel caso delle dimissioni volontarie o ancora se in caso di mancata approvazione della questione di fiducia ci sia lo scioglimento anche delle camere. Tutto questo non viene detto, tutto questo viene lasciato nell'incertezza più totale. Certo e per quanto riguarda i poteri del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica come stabilito ieri credo può diciamo nominare i ministri, dimissionarli però non può fare la stessa cosa col Presidente del Consiglio. Cioè il Presidente del Consiglio può proporre la nomina e può proporre... Ma lui stesso può essere oggetto di una revoca? No, certamente no, il Presidente del Consiglio in quanto direttamente eletto assume una posizione di primazia sia nei confronti degli altri componenti del governo sia nei confronti del Parlamento perché quel Parlamento è il risultato dell'elezione del Presidente del Consiglio perché la maggioranza parlamentare sarà garantita, secondo quanto prevede l'articolo 3, alle liste collegate al Presidente del Consiglio e assumerà una posizione di primazia anche nei confronti del Presidente della Repubblica perché il Presidente della Repubblica non è direttamente eletto ma è anche un Presidente della Repubblica che finirà con l'essere nella disponibilità della maggioranza collegata al Presidente del Consiglio. È soddisfatto dell'abolizione del semestre bianco? Mi sembra un aspetto del tutto secondario rispetto appunto alla gravità e alla pericolosità di questa riforma. Senta, oggi dopo l'articolo 4 cosa vi resta di fare dopo aver fatto l'articolo 4? No, l'articolo 4 lo abbiamo appena iniziato. Dopo che l'avete detto? Ecco, io mi auguro che questo articolo 4 consenta insomma di fare un approfondimento che fa emergere le tante contraddizioni e magari induce il Governo a un ripensamento. Poi avremo ancora un prossimo articolo. L'ultima cosa, ha l'impressione che per esempio Balboni sia andato un po' più avanti rispetto agli altri sulla legge elettorale perché ieri il Ministro Casellati è stato abbastanza ermetico, ha detto aspettiamo la prima votazione al Senato per avere il quadro e poi scriviamo la legge elettorale e si cominciamo il giro. Balboni mi sembra che sia andato un po' più avanti, no? Sulla legge elettorale si è consumato una grande sgrammaticatura istituzionale perché non è possibile dire al Senato nel mentre sta discutendo della riforma costituzionale che la legge elettorale che dovrebbe risolvere le principali contraddizioni della stessa riforma verrà presentata e resa quindi nota dopo che il Senato avrà svolto il proprio compito e avrà votato la riforma. Cioè è una mancanza, come dire, di riguardo nei confronti dei senatori ed è un modo di procedere abbastanza curioso perché quando il bisogno di legge arriverà alla Camera allora il Governo dirà quale modello di legge elettorale intende proporre. La questione è grave perché? Perché la riforma costituzionale contiene in sé una contraddizione non risolvibile che la Ministra dice invece di essere in grado di risolvere con la legge elettorale. Ora siccome è una questione che probabilmente, io credo, indurrà alla fine a rivedere parti della riforma costituzionale perché non si può scrivere in Costituzione che le liste collegate al Presidente del Consiglio avranno comunque la maggioranza almeno assoluta e contemporaneamente prevedere che quelle liste saranno rispettose del principio di rappresentatività. Le due cose può darsi che non stiano insieme perché se le liste collegate al Presidente del Consiglio ottengono un consenso in una Camera magari del 27-28% e in un'altra del 30% ma sono collegate al Presidente del Consiglio eletto, cosa si fa? Si trasforma quel 27-28% in 51-52%? Se si prevedesse questo, se si prevedesse... Sarebbe un premio del 26%? Si violerebbe quella che è la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale. Se non si attribuisce il premio, come si fa a rispettare quella disposizione contenuta nell'articolo 3 che invece dice che le liste collegate avranno un premio almeno assoluto? Ecco, questo non abbiamo ieri potuto saperlo. se non attraverso una dichiarazione della Ministra che ha detto che questa aporia sono in grado di risolverla con la legge elettorale ma vi svelerò la mia soluzione dopo che avrete votato la riforma costituzionale e la svelerò poi alla Camera. Ora, io non credo che questo sia un modo serio di affrontare un tema così delicato qual è quello della riforma costituzionale. Grazie al Senato Andrea Giorgis. Grazie a tutti.